Da decenni stiamo provando a migliorarla, non tanto rimuovendo il filtro, ma ponendo l'attenzione su un problema, su una questione importante. La stagione oggi della giornata regionale dei Colli Veneti, scritti di biodiversità, cultura e storia. Ogni prima domenica di primavera da tre anni si festeggia la giornata regionale dei Colli Veneti per la valorizzazione e la conoscenza del territorio collinare dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale. Un calendario unico di manifestazioni organizzate da proloco, comuni, associazioni, operatori sociali ed economici del territorio, favorendo uno sviluppo sostenibile. Il comune di Montegrotto Termi, provincia di Padova, aderisce ufficialmente per la prima volta, anche con attività sportiva all'aria aperta, come strumento di promozione di un rapporto armonico e rispettoso dell'ambiente. Abbiamo vissuto delle esperienze di escursionismo all'interno del parco di Villa Draghi per valorizzarne i sentieri per riconoscere questa giornata.